E' stato entusiasmante, bellissimo, soprattutto di presa in reta con la spiegazione del presentatore su tutto ciò che riguarda il mondo di CBM, sull'attività che svolgono perché è effettivamente importante il fatto che con due euro salvino più una persona ma che appunto ognuno possa dare il suo contributo per apportare lungivamente alla società e poi il concerto è stato fantastico, entusiasmante si è svolto con un quarto d'ora all'inizio di luce, 30 minuti di buio e 15 minuti finali con la luce è stato bellissimo, un'esperienza consiglieria a tutti quanti Grazie